ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video nuova puntata del comprato e consigliato cose che compro realmente per utilizzi che ne posso fare nel lavoro ma anche cose normali in casa non sto a fare dei video singoli ma ve le faccio vedere velocemente e ve le consiglio perché sono cose che uso io non è che me le hanno mandate mi pagano sempre solito discorso bene faccio vedere qualcuna oggi man mano che mi arrivano registro delle clip e poi le inserisco in questi video quando ce ne è 4 5 nel pubblico 1 e vado avanti così sempre verde straconciuta la pompa xiaomi che poi ha a sua volta ricomprato questo brand cinese massiccia nera plastica opaca ma molto molto robusta display tutte le precauzioni di sicurezza con l'adesivo che possiamo andare a rimuovere qui sotto abbiamo la porta di ricarica type c quando lo mettiamo in carica si accende l'icona solamente della batteria indicando che sta caricando qui sopra abbiamo un led tutta la parte areata per far prendere uscire aria per tutto il suo funzionamento di di pompa vera e propria questo è l'attacco che si incastra qua dentro rimane a forma di lucchettone all'occorrenza dobbiamo montare l'adattatore necessario tutti gli adattatori in dotazione sono forniti di o ring per la chiusura basta stringerli a mano non è necessario esercitare chissà quale forza quindi per le valvole piccole delle bici per le valvole delle auto con blocco per i palloni quindi semplicemente montando l'ago come funziona una volta accesa si imposta la pressione che ha già dei setup preimpostati abbiamo bicicletta 45 psi moto auto monopattino a 50 psi pallone 8 psi o possiamo impostare noi il psi a mano qui abbiamo la possibilità o meno di accendere la luce perché molto spesso capita di dove gonfiare al buio premendo il tasto centrale inizia il pompaggio niente di più semplice lo spegnimento è automatico quando chiudiamo la tubazione bene diamogli una bella caricata e facciamo delle prove modalità bici 45 psi pinza amperometrica senza marchio niente di particolare appena arrivata costo 48 euro 99 49 euro mi sembra dunque perché l'ho scelta perché intanto so che aveva la sacchetta che è una cosa che può sembrare scontata ma è importante soprattutto se la portate in giro e due perché aveva la parte in dc vi avevo già fatto vedere una pinza amperometrica che uso io nello zaino da elettricista dove mancava la funzione di corrente in dc che non uso mai in giro invece qua a casa mi può capitare che serva visto che ho avuto molte richieste sul discorso della misurazione in dc ho preso una pinza economica ma che comunque aveva delle buone recensioni che non sembrava niente male ma soprattutto che ha la misurazione della corrente in dc parliamo più o meno dello stesso prodotto già vedo i componenti due ministiro sonda per la temperatura perché fa anche lettura di temperatura puntali che sono praticamente identici a quella che avevo già sono abbastanza morbidi di silicone qua ne hanno visto passare poco ma non sono male e soprattutto i puntali che non sono niente male sono isolati sono abbastanza di qualità ed importante hanno questo che si toglie per andare in profondità o per tenerlo più isolato e lavorare in sicurezza quello che mi interessava di più però era la parte della pinza in sé perché abbiamo un sacco di regolazioni un display carino una buona meccanica una luce è la possibilità di scegliere la misurazione in corrente vedete questo indicatore 60 ampere col simbolo dritto e alternato vuol dire che fa la lettura sia in corrente alternata che in corrente continua mettiamo le batterie un selettore che non è male misurazione fino a 600 ampere misurazione fino a 60 ampere misurazione di tensione quindi automatica tra alternata e continua tutta questa parte la sceglie in automatico utilizzando solamente il comune e il puntale rosso misura di frequenza di od eccetera che secondo me lasciano il tempo che trovano su dispositivi come questi ma la funzione c'è qui possiamo passare dalla lettura della resistenza alla funzionalità condensatori di odi o semplicemente per la continuità negativo sul com positivo su input quindi la possibilità di misurare la continuità che spesso ci fa molto comodo possibilità di leggere la temperatura in gradi centigradi o in gradi fahrenheit cambiando semplicemente la scala col zf come si misura si misura mettendo entrambi i puntali quindi in questo modo va a leggere un valore attraverso la sonda che in questo caso è 26 grandi che quello che rileva nell'ambiente ma all'occorrenza si può usare per fare misurazioni dentro un qualcosa di freddo o di caldo altre funzioni abbiamo la possibilità di illuminare il display lavorando al buio e di usare anche una piccola led di cortesia qui abbiamo la possibilità di fare il blocco della lettura vedete che mi memorizza il valore facciamo subito una prova perché ho giusto da misurare quanto assorbe un dispositivo collegato a una batteria a 12 volt ok qui ad esempio sto facendo un test di alimentazione a 12 volte vediamo quanto stiamo tirando da questo cavo accendiamo la pinza amperometrica la mettiamo su corrente alternato continua a 60 ampere basta metterla intorno al cavo positivo e vedete che leggiamo 30 ampere perché segna meno perché l'abbiamo messa nel verso sbagliato dove c'è il flusso dobbiamo farlo entrare dalla parte del display display che si illumina lettura che vi confermo dai calcoli è giusta 30 ampere e mezzo se lo mettiamo a 600 fa la stessa lettura ma con meno precisione perché aumenta la scala infatti vedete che legge 30.3 poi della vce link che è un ottimo marchio che produce diverse cose interessanti tra cui la pinza che avevo fatto vedere con i fili passanti per i connettori di rete mi sono trovato nella esigenza di prendere un kit per smontare più che altro i cellulari perché io già non ho tempo di fare nulla ogni tanto mi prendo anche la briga in negozio di mettere mano ai cellulari quindi mi serviva una cosa con un astuccio che costasse poco adesso questo costa meno di 20 euro se non sbaglio con tutto il necessario almeno so che quando devo fare quel lavoro prendo questa sacchetta e so che dentro c'è tutto tutto vuol dire un pennellino vuol dire un manico per tutti questi micro inserti un attrezzo di plastica per fare leva per le aperture e soprattutto una pinzetta di precisione ma di alta precisione guardate che roba tutti i vari inserti taglio croce ma abbiamo anche tutte delle robe strane tipo i triangolini o queste viti a 3 o a stella 5 che spesso si trovano non si riescono a svitare oppure le sminchi tutte compresa questa che a abbiamo e che io ogni volta mi devo costruire molando un cacciavite a taglio più o meno dovremmo avere tutto quello che serve abbiamo un magnete per non perdere le viti e abbiamo poi una specie di pletto per fare leva è una ventosa che tanti non sanno cos'è ma usata in questo modo serve per fare leva mentre state magari scastrando un display queste sono tutte cose banali che però per fare certe cose bisogna avere non averle sparse in giro è importante averle dentro un astuccio appeso insieme a tutti gli attrezzi può tornare comodo ok tipico esempio un telefono da smontare vari aggeggi per fare leva qui abbiamo delle piccolissime viti a croce quindi certo del genere la parte in appoggio sul palmo gira per facilitare le operazioni possiamo procedere in magnete per non perdere le viti vedete insomma c'è tutto quello che può servire per il fai da te o anche per un uso professionale nei contesti dove c'è da smontare roba piccola delicata telefoni console riparazione elettronica in generale a questa è una figata allora probabilmente non vale quello che costa perché costa circa 14 euro su amazon però la volevo e l'ho presa quindi se vi piace se vi interessa vi lascio il link o altrimenti archiviate diciamo il link nelle cose inutili che sono solo carine da avere che cos'è è una specie di penna multifunzione che mi è piaciuta un sacco allora dentro abbiamo in dotazione tre piccolissime batterie perché questo oggetto dopo aver tolto questa protezione ha anche una pila tre batterie sono di ricambio e una penna multifunzione perché perché c'è una bolla questo tavolo fuori bolla confermo vedete che se lo metto in bolla viaggia insieme la penna fa anche da metro per 10 centimetri per prendere al volo una misura insomma tutte quelle cose da fare a occhio compresi i pollici c'è un cavatappi integrato perché capita sempre di dover aprire una birra no la parte sotto si svita abbiamo accesso a un pennino capacitivo nel caso dobbiate usare un tablet un telefono avete i guanti e chiaramente c'è anche una penna che scrive davvero colore nero una volta smontata qui dentro avete sempre dietro questo inserto taglio croce si può girare all'occorrenza e avrete sempre la possibilità di avere un micro cacciavite perché è piccolo ma c'è con un piccolo taglio o un piccolo croce sempre pronto parte che scrive ne abbiamo di scorta tre tutte quante nere da tenere insieme alla batteria quindi costicchia sì però almeno la fanno durare un po di tempo perché poi magari non trovate i ricambi di queste avete difficoltà a trovare queste micro batterie vi danno già un qualche cosa in dotazione potete metterla nel taschino è leggermente più lunga di una matita normale ma nei pantaloni da lavoro ci sta potete anche attaccarla qui quando serve avere una lucetta per fare luce da qualche parte non è male e la volevo una semplicissima base di ricarica wireless ma 15 watt quindi riesce a caricare anche telefoni che riescono ad avere una potenza assorbita dal wireless un po più alta perché ho preso questa perché ne ho già un'altra funziona benissimo avevo bisogno di aggiungere al negozio e allora l'ho ricomprata la prima volta non avevo fatto un video questa volta visto che ogni tanto facciamo il comprato e consigliato ho fatto che rifarlo cavo tipo a e type c perché alcune vecchie basette hanno ancora il micro semplice nera antiscivolo dissipa bene il calore non scalda tanto ma non ha la ventola che fa rumore quindi anche sul comodino non è un problema in iu il marchio carica anche con le cover e anche con altri accessori tipo i magneti montati dietro non ho mai avuto problemi per questo ve la consiglio ma solo perché io l'ho comprata e l'ho ricomprata 17 euro onesta fa quello che deve fare queste invece sono una cosa che alcuni magari neanche conoscono ma sono un po una svolta perché tante volte uno non ci pensa ed è abituato ad andare a comprare le batterie quando si scaricano o ad usare degli elementi ricaricabili con la basetta il caricatore eccetera che possono anche essere scomodi qui abbiamo una cosa che secondo me è figata che sono le batterie si ricaricabili ma ricaricabili con porta usb ce n'è di due marche perché stile mini stilo ho preferito prendere queste mentre ad esempio le 9 volte che io uso parecchio e che costano anche parecchio lo sapete bene le produceva o meglio andavano meglio queste di quest'altra marca che si chiama enegon come sono fatte sono fatte in questo modo montano esattamente come una batteria normale in questo caso sono delle 9 volte 650 mili ampere ioni di litio e semplicemente si ricaricano con una qualsiasi porta usb ormai l'abbiamo dappertutto voi prendete mettete in carica la batteria l'attaccata è una qualsiasi porta usb parte led di ricarica luce rossa sta caricando e voi siete tranquilli che anche se per caso le avete dietro ad esempio queste sono quelle che uso molto spesso negli strumenti sul furgone non mi devo più preoccupare di avere delle batterie nuove di scorta ma una volta che ho queste dietro so che se anche fossero scariche tempo qualche minuto o possibilità di ricaricarle e le rimetto dentro senza avere dietro un caricatore o robe strane poi comunque parliamo di batterie agli ioni di litio quindi con tutti i vantaggi rispetto a una vecchia tecnologia di batterie ricaricabili stessa cosa per stilo e mini stilo abbiamo anche questo comodo astuccio per portarle in giro fatte in questo modo ovviamente montano perfettamente un pelino più lunghe ma giusto un pelino con le molle abbiamo tutta la compensazione del mondo quindi zero problemi funziona perfettamente l'unica cosa non fatevi venire la brillante idea di lasciarle con il connettore su e caricarle mentre sono inserite perché non va bene porta micro usb questi sono stilo a 1,5 volte e ogni stilo e da 3.300 millivattora mentre nel mini stilo formato a sono da 900 millivattora vedete anche qua porta micro usb particolarità è che nel kit vi danno il cavo sempre doppio quindi con due porte usb le potete anche caricare tutte e quattro insieme per quanto riguarda le mini stilo e tutte e quattro assieme anche per le stilo chiaramente tutti attacchi micro usb che potete tranquillamente non usare il cavetto doppio ma dovunque vi troviate con una porta usb e un cavo micro usb anche solo una alla volta le potete caricare senza problemi anche qui luce rossa sta caricando le mini stilo invece lampeggiano di blu perché le consiglio perché in giro ne ho una caterba non ho mai avuto problemi ho letto alcuni commenti che su alcune magari vecchie fotocamere eccetera non ce la fanno ad alimentarle correttamente per tutte le apparecchiature elettroniche dove io le usate hanno funzionato senza problemi poi se per caso le compriamo perché ci piacciono sono comode e troviamo quel dispositivo che non le supporta su quel dispositivo continueremo a usare le pile di prima ma su tutti gli altri abbiamo risolto il problema puntata comprata consigliato di oggi è finita ci vediamo al prossimo video prossima direttore se passate negozio per un caffè grazie a tutti iscrivetevi al canale che è gratis e non costa niente ciao da massidattoli